186 pazienti operati in un anno, circa il 20% dell'attività complessiva della cardiochirurgia di Mestre che da settembre 2015 ed agosto 2016 ha eseguito ben 867 interventi. È il bilancio di primo anno dell'unione tra le cardiochirurgie dell'ospedale dell'Angelo di Mestre e quello di Mirano. Un bilancio assolutamente positivo che ci permette di dire che siamo andati nella direzione giusta. Un servizio che è assolutamente in linea con quelle che sono le linee di appropriatezza della nostra regione del Veneto e che sta dando veramente un servizio ottimale alla comunità. Questa sinergia tra i due poli ospedalieri ha permesso di azzerrare le fughe verso altri ospedali del Veneto con un risparmio di 600 mila euro per la sanità della nostra regione. Un risultato ottimo hanno detto i responsabili che come obiettivo avevano quello di dare risposte efficienti ai cittadini. Abbiamo assorbito l'attività cardiochirurgica di Mirano, questo ha permesso insieme al nostro indice di attrattività anche verso pazienti di altre uso di portare il numero dei nostri interventi totali a circa 900 interventi. E questo soprattutto ha permesso da un punto di vista di costi per la sua domanda di abbattere moltissimo perché in una struttura già grande come questa, l'assorbimento di altri 200 e più pazienti è stato possibile, come veramente in un mercato di grande scala, abbassare i costi offrendo alla popolazione gli stessi servigi che venivano offerti prima. Importante è la valutazione celere del paziente e il conseguente indirizzamento. L'Unione delle Cardiochirurgie di Mestre in Mirano ha consentito anche di ridurre le liste d'attesa. Le liste d'attesa sono entro i pazienti stabili, hanno una lista d'attesa comunque breve, inferiore ai 30 giorni. Per i pazienti urgenti non esiste lista d'attesa perché il collegamento in videoconferenza tra la sala demodinamica e la Cardiochirurgia di Mestre permette un confronto, un giudizio rapido, una valutazione del caso in maniera assolutamente rapida e il paziente viene trasferito immediatamente se deve essere operato viene trasferito immediatamente senza tempi di attesa.